super mario 3d world omen se benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su super mario 3d world ovviamente in compagnia di mio padre ciao ed è un po che non facciamo super mario 3d world ma comunque a mio parere è un bellissimo gioco allora questo qui partecipa io ovviamente pitch no aspetta vai due si fa sempre così bene andiamo ovviamente pitch e mario siamo ancora il primo mondo ecco perché nel senso abbiamo fatto solo l'episodio appunto allora intanto direi di vedere qua la casetti immediatamente prima di affrontare quel brutto signore a te la scelta io sceglierei quello piccolo vai ottima scelta andiamo pitch gatto e mario fuoco sempre buono si fortunatamente ma invece è tutto bene quindi siamo pronti ad affrontare quel tizio brutto che è altro pazzo di 500 ext�ite st�iare con quel brutto signore duello con i placó la folla che vuoi signore del metro un gattino mi sta uccidendo lo riusciva a prendere la stessa eh in effetti il 3D potrebbe essere un problema potrebbe però ok ora mi chieda cos'è questa cosa e la corona UB non lo so io comunque non la prendo mai no 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 7 stelle però ok si è fatto un ponte e che ovviamente ci ha aperto un nuovo livello e una nuova strada andiamo subito a vedere cerchiamo ovviamente sempre di prendere tante cose ci va molto agliosa quindi da questo già presumo che allora prendiamoci sugli alberi vediamo se c'è qualcosa di buono no pure tu che carino ho trovato una stella papà io ho trovato la prima stella l'ho rizzato bene vediamo se li va di qua no non credo ci sia niente vai vai credo che qui ci servano proprio gli alberi no perché l'hai ucciso almeno prendevi il piatto no no uuuh pov 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 e la uuuuuh perfetta ce la fai ecco a cosa serve pov ecco vai vabbè prendiamo anche questo almeno possiamo raddicarci per bene muori bravo oh cos'è vedi un po' no prendi prendi no ho preso la spesa vai aspetta boom oh cos'è in giù aspetta aspetta vai vai c'è il timbro là bene vedi un po' là dentro si uuuh no mettiamo vai 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 oh ok dobbiamo prendere tutte le monete o cose vaghe vai eh via vai 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 prendi uuuh io mi sto uccidendo bene possiamo tornare di qua oh non ci stavo comando niente stavo girando ok vai io posso prendi qua uuuh ah ok qui c'è un altro wow ok e qui ci vedrà un altro aspetta aspetta un po' eccomi muori sono dovuto volare ok vediamo sempre se sugli alberi c'è qualcosa di vuolo magari oh vieni un po' no però qui c'è qualcosa vieni vieni ok mettiti lassù vai e ok via vai una rugola ok ci sono muta anch'io e ci spara e ci spara vieni vai 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 qui c'è la stella alla fine vai salta aspetta c'è la stella e adesso non ci riusciamo più siamo scegli vabbè vieni 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 mamma mia che qui su ho visto un minuto comunque mamma mia allora e adesso guarda aspetta a me spingimi spingimi vieni su ehi ce la faccio si ok perchè vado a prendere questo ok porca miseria e vabbè dai ok possiamo scendere ok vabbè 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 attenzione ehi muovi ho detto ok abbiamo aperto una via a quanto pare bene vediamo oh ti ho preso in braccio vediamo se c'è qualcosa vai perché no oh vabbè vabbè eh tu sei morta ma no 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 aspetta oh cosa è successo oh vi ho tolto qualcosa vai lì ok ok qui tu vuoi volare così no allora aspetta che ah no no possiamo fare una cosa bella vai 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 guarda oh perfetto come perché perché sono rimasta là sotto forse perché è sbattuto a me no perché è un buono a me perché già piccio ha il potere di volare ah ok quindi votanzi che è questo bene abbiamo recuperato anche il nostro terzo titolo ragazzino beh infatti era proprio quello lo scopo del del gioco oh io ho preso la stella ho preso quell'altro ti sembra avanti io ho preso la stella principale ho preso la prima stella b ah può essere sì quindi mannaggia però non siamo riusciti a prendere vabbè e il fatto è che se il gioco ci servirà magari non ce l'abbiamo e dobbiamo rifarci tutti i livelli capito sono perfetto hai dei dubbi e tu sai come procedere nel gioco nessun problema bla 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 ok bene eh circo o mi sembra tipo cose belle vogliamo andare al circo l'abbiamo mai fatto no vabbè abbiamo fatto solo due livelli quindi quindi proviamo con il circo vai interruttori a go go a go go ah ecco ecco perché ah sì attenzione a non rimetterci l'abbè 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 ah ok qui uo vabbè vabbè vedi speciale all'abbè forse magari due gatti ci potrebbe aiutare perché siamo agili oddio dove è andato forse due gatti sì davvero il giorno vabbè comunque ma più caro per il semplice motivo no chiedi per il semplice motivo ok no ferma abbiati eh non ripassaci sopra aspetti no vai vai per quello vai ok qui li stiamo prendendo tutti i passaggi io mi fatti che vi preoccupo perché non ancora non abbiamo trovato dove oh no scusa non mi mandava non mi sia là aspetta aspetta qui che c'è wow ok la prima bene la prima mi rassicura ok andiamo di là e c'è qualche oddio c'è qualcosa no ok non mi sembra andiamo qui si fa interessante la cosa tu vai ovviamente di là ok aspetta 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 wow ok c'è qualche stella sono le mie eh infatti è bello tutte stella aspetta forse questa ci dà una stella prendi 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 no no non vieni prendo vabbè non mi manca vediamo di qua aspetta aspetta di qua tanto adesso si può avvenire si questo mi sembra che dovrebbe essere ok distruggi eccola perfetto questo cosa no io sto prendendo le cose non è giù dai oh aspetta ancora la stella una strega oh non si la posso uccidere ho intanto preso del tempo ok l'ho presa ce l'ho uccisa vai vai la stella aspetta oh no che devi oh anch'io sono stupida no che sono stupida sono l'idioto ma sono l'idioto numero uno porca miseria sono l'idioto che numero uno tu ti devi fermare un attimo là no non so mi devi tornare il mio tempo come il max non sbagliare e non perdere tempo che pizza io aspetta mi sono casini ti aspetta va bene vai 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 sotto vai prendi prendi mettiamo qua e ora sappiamo dov'è ma stupida la prova ok beh la terza stella sta lì non lo intanto abbiamo tutti i due poteri eh sì stiamo facendo oh oh attenzione si stava colpendo oddio non mi avevo visto oddio ho paura ora siamo al punto di prima sì andiamo e che la fa aspetta prendiamo così vai steline ok la nottima vai ok oh no 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 vabbè aspetta oh 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 ok grazie grazie mi ha portato in braccio l'ho preso giusto in braccio tic te infatti siamo andati insieme a parte quell'errore alla fine siamo andati bene a stupirare da là abbiamo fatto infatti comunque il nostro quarto timbro anzi io ho fatto una stupirata non tu io ormai stavo fuori tu invece io sono scema però purtroppo sono scema ormai è successo comunque abbiamo fatto questo e ne abbiamo altre tre di stelle bene e possiamo accedere al castello però prima direi di fare anche quello comunque io vediamo ecco salvataggio ok io comunque direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti